Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Oh, is that a trainwreck's reply to me and say that? Oh no. What a big, what a big man. A big gambling man. Man, I was just, I was just quoting Picard, okay? Uh-oh. 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 I'm stuck in the crafty. No way. Bro, I'm stuck in the crafty. Wait. My vision is clear. Follow the tunnel. What? All right. Maybe he, like, punched me out or maybe he's Valcult. We can get a car. I think if he's Valcult, come here, Tim. He's Valcult and I could probably attach to you. Alert five. Ready to score for burn. No? Wait, all right. Oh, there we go. All right. Cancel? All right. Okay. Say it. Let's go. All right. All right. All right. Ah, maestro... ...bas portato... ... ... ... ... ... ... ... Non c'è un po' di parlare molto bene Grazie mille 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 Non c'è un po' di nascite Non c'è uno C'è un po' di livello La sua gente non cè A un po' diere Non c'è la sua stagione. Tieni la sua stagione e si vede. Tieni la sua stagione. Che aveva il sogno della sua stagione. Non c'è la sua stagione. Non c'è nessuno. È un'azvolta. Cosa è l'azvolta? Cosa è l'azvolta? La sua stagione è lata. Sì, perché? Sì, è venuto, non è vero? Mi piace l'è? Sì! Alla prossima! È venuto! Grazie mille! Grazie mille! Oh no, è vero, è vero. Sì, è vero, è vero. , , , , , , , non c'è un po' a? Physi che stanno dal punto Mi raccomando è molto… Non c'è qualcosa di più Non ponte! Il tempo ancora 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 di più Ho sei non bastano? Sao che non bastano? Non bastano? Non bastano nuти? No! No! No, questo è un po' Non si tratta di stare Non si tratta di stare just in case I'm covering I'm covering here thank you so much in case in case you see my if anything honestly the new ring system is just kind of boring because like honestly a lot of times again you're getting punished if you don't play like if you don't just AFK late game and if you do AFK to late game then you're sitting still for 15 to 18 minutes before anything happens and then you have like 2 minutes of action for an in game if you're still and you're like okay good Trasil determinate allora windu isia avete visto che ci sono un po' di questo? Sì, 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 sì.